La nuova nomina assessoriale è la sintesi dell'intesa tra Partito Democratico, Movimento, Valderice che vogliamo ed il gruppo consigliare Espressioni di Uniti per il Futuro, rappresentato in Consiglio Comunale da Francesco Stabile, Silvana Urso ed Alessandro Pagoto, passati dunque tra le file della maggioranza consigliare. L'accordo politico ha portato la nomina ad assessore dell'architetto Giuseppe Pedalino che ha preso il posto di Serena Pollina, dimessasi per motivi personali. Un avvicendamento in giunta che il sindaco Minospezia ha motivato rimandando esclusivamente a dinamiche cittadine e sul rilancio dell'azione di governo nel comune di Valderice per risolvere le problematiche territoriali, del tutto slegata da condizionamenti politici esterni, mettendo quindi da subito i suoi paletti alle strumentalizzazioni politiche. C'è un'intesa che passa tra il Partito Democratico, il Movimento Valderice che vogliamo e i consiglieri comunali Stabile, Pagoto e Urso che fanno parte di un movimento civico. Da questo accordo nasce la sostituzione in giunta e quindi con l'entrata in giunta dell'architetto Giuseppe Pedalino. Un accordo che mira a rafforzare l'esperienza amministrativa attuale e a guardare al futuro. Un accordo fatto per Valderice sulle cose concrete che riguardano questo territorio. Io voglio ringraziare Serena Polina per il lavoro che ha fatto in questi mesi. Esce per ragioni personali, però mi ha assicurato il suo impegno per il futuro. Io le ringrazio ovviamente per quello che ha fatto e faccio l'imbocca al lupo all'architetto Pedalino per il suo impegno in questo ultimo scorcio di legislatura. L'amministrazione Spezia si prepara dunque a questo ultimo scorcio di mandato prima delle elezioni amministrative del prossimo anno. A Giuseppe Pedalino è il sindaco affidato le deleghe all'urbanistica, promozione turistica, cultura e sport. Nella squadra assessoriale del sindaco Spezia ci sono anche Giovanni Coppola, Antonio Giovanelli e Margherita Daguanno. A meno di un anno dalla scadenza della sindacatura, l'esecutivo punta a portare a compimento gli iter relativi alle varie progettualità in itinere. Sicuramente dobbiamo portare a compimento, anche se non dipende direttamente da noi, le fognature di Bonagia, quantomeno il primo intervento, avviare subito i lavori per quanto riguarda il campo sportivo dei Misericordia, il bando per il campo sportivo di Crocci, il nuovo pubblicare, il bando per quanto riguarda l'ulteriore rete fognante che vogliamo realizzare e per il quale già aspettiamo soltanto il decreto di finanziamento da parte dell'assessorato regionale Acqua e Rifiuti e sicuramente poi un intervento sulla pubblica illuminazione, cioè l'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione che già ha registrato un primo intervento. vogliamo proseguire su questa strada per realizzare sicuramente intanto delle economie ma anche per garantire ai cittadini un servizio più efficiente.